Buonasera a tutti, mi presento, sono Noemi della CGS Mital SRL, anzitutto vorrei ringraziare il sindaco per averci scelto e averci invitato qui. Prima di parlarvi della nostra azienda vi faremo vedere un video di presentazione e poi passerò la parola a mio fratello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Massimo. Come bene avete capito sicuramente il nostro compito è quello di rendere sicure le vostre abitazioni, le vostre case. Noi siamo una conduzione familiare, siamo produttori, quindi produciamo vendendo direttamente, quindi la convenienza è anche alta. Il giorno d'oggi è nostro dovere proteggere le nostre case, quindi noi siamo qui per qualsiasi informazione, qualsiasi domanda, così come vi ho detto prima, l'organizzazione di un'attività è fatta a livello grande con delle organizzazioni anche di realtà del commerciale, a livello invece un po' più ridotto con delle organizzazioni di attività in senso stretto. Per cui, come avete capito, la sintesi della spiegazione è che loro in realtà sono degli operativi, loro lavorano direttamente. Allora potrei provare a chiedervi qualcosa di specifico, insomma, come si fa a blindare una porta, a blindare una finestra, a blindare eccetera e lui in qualche modo dà un'indicazione, una spiegazione. Poi le eventuali richieste specifiche le fate anche direttamente a lui o a loro, magari anche a fine riunione. Proviamo a rispondere a loro. Perché si deve blindare una porta, perché si deve blindare una finestra, quali sono le opportunità di effrazione una volta che l'ho fatto, come vanno a scassarla, per esempio, o piuttosto che garanzia date voi rispetto alla sicurezza dell'organizzazione, dell'effetto. Per chi non è munito almeno di porta blindata, le cose sono due. O cambia la porta mettendo una bella porta blindata, o ci sono anche altre alternative, tipo proteggere la serratura con un defender, che quindi evita il tentativo di scasso, quindi il ladro non può inserire nulla. Il defender è un meccanismo che va a proteggere il cicletto della serratura, quindi il ladro non può inserire nulla, perché il metodo più comune per i ladri è inserire un grimaldello, un attrezzo che si chiama grimaldello bungaro e serve proprio, anche se non hanno la chiave esatta della serratura, loro riescono ad aprirla. È una chiave universale. Diciamo che vabbè, il ladronco non è solitamente fornito di questo apprezzo, però quando puntano un appartamento, una casa, un'abitazione...